Musica Libertà compie 134 anni, compleanno speciale per il quotidiano di Piacenza, la presidente Donatella Ronconi annuncia una nuova veste grafica dal 15 febbraio per giornale e sito. Giornata della memoria, anche Piacenza non dimentica le vittime dell'olocausto, tante iniziative che hanno coinvolto soprattutto i giovani. Ponte sul Trebbia chiuso 115 giorni, riunione in provincia, il presidente Rolleri spiega che i lavori sono necessari, così come la chiusura da giugno, ok alla cabina di regia. L'unità spinale resti a Villanova, protesta del comitato contro il trasferimento del centro nel nuovo ospedale di Fiorenzuola, replica del direttore dell'ASL Baldino, soluzione migliorativa. LPR a Casalecchio, stupire ancora questo lo spirito con cui la LPR Volley affronterà domani la difficilissima semifinale di Coppa Italia contro la Lube Civitanova Marche. LPR a Casalecchio, stupire ancora questo lo spirito con cui la LPR a Casalecchio è un'attività di Coppa Italia.